ecco siamo l'ultima che fa cosa è che mi guarda tutto è tutto buono allora ho capito ora siamo arrivati alla fine di questo tour ma pure ok siamo arrivati volevo dire alla fine di questo tour bellissimo e saremo quando saremo il 13 il 13 giovedì 13 madonna questi buoni risanna basta saremo lo dicevo giovedì 13 zona livorno con i nostri soliti consigli è bello viene a livorno aspettiamo perché deve fare devo fare così la pagliaccia non lo so ma tutta questa roba anche male saluta saluta mi metti quello non te la metto quello no anche questo basta ciao ciao